Incrementiamo il livello di realismo e lo rendiamo più accattivante questo video. Grazie a che cosa? Grazie all'utilizzo delle videocamere. Inizio subito ad aggiungere una videocamera. Come? Mi porto su questa voce, clic destro, aggiungi videocamera. Guardate un po' Solidworks, subito va a splittare l'area grafica dove sulla sinistra ci dà la possibilità di andare a posizionare per bene la camera. Sulla destra ci mostra proprio la visualizzazione di questa camera che abbiamo appena aggiunto. Infatti noi qui abbiamo la visualizzazione camera, se io sposto il modello automaticamente si sposta la camera. E poi nel property abbiamo tutti i controlli, tutti i controlli che adesso andremo ad utilizzare in gran parte. Anzitutto, ecco qua sto vedendo rotazione della camera a 2,9 gradi, no? Zero. Ok, non voglio la camera ruotata. Inizio. Allora, vediamo un po'. Mirata a destinazione sì, io voglio il mirino a destinazione. Vedete? Eccolo il mirino, altrimenti potrei impostare mobile, semplicemente trascinando la camera nell'area grafica. Io invece voglio mirare ad una destinazione specifica e qual è la destinazione specifica per me? Attenzione, mi metto in vista dall'alto. Questo qui lo afferro, quindi il mirino lo metto qui. Io devo partire con il dettaglio della fotocamera frontale, quindi qua devo ruotare anche la camera. Guardate, lo faccio direttamente, ecco, trascinando la camera, eccola qui, mi fermo qui. Poi mi metto in vista laterale, mi abbasso, grosso modo così, e poi mi avvicino. Guardate un po'. A questo punto alzo un po', eccolo, questo lo sollevo un pochino, mi avvicino ancora, perché voglio partire con questo dettaglio. Eccolo, stiamo vedendo l'anteprima. Ok, poi scendo giù, scendo giù, vedete addirittura possiamo anche selezionare un vertice, possiamo selezionare un bordo per definire la destinazione della fotocamera. Ora, scendo giù perché mi porto sul campo visivo dove possiamo controllare la prospettiva. E attenzione, qui dentro abbiamo praticamente gli obiettivi. Guardate un po', abbiamo il grandangolo, abbiamo l'obiettivo standard che di fatto rappresenta un po' la focale dell'occhio umano, e poi abbiamo i teleobiettivi. Quindi, vedete, io in questo caso voglio proprio lo standard, perché non voglio una rappresentazione alterata rispetto a quello che potremmo vedere noi. Bene, qua mi fermo. E, altra cosa, ecco, importante che vada a fare subito, io poi dovrò esportare un video, questa volta essendo un video commerciale, un video in formato 16 noni. E quindi qua devo subito andare a ritoccare l'aspetto, eh. Attenzione, il rapporto d'aspetto della videocamera, imposto 16 noni. Guardate un po' come cambia, in effetti, l'anteprima. Ok, poi io andrò ad esportare il video attraverso le videocamere in formato 16 noni. Bene, questo per me è il punto di partenza, quindi partiamo da questo dettaglio, direi che possiamo confermare. E vedete, Solidworks, ecco che ci mostra già la vista videocamera, eccola qui. Però, va detto una cosa, guardate un po' com'è successo in precedenza. Guardate un po' se è sposto la barra temporale in posizioni differenti. Vedete, è uscito dalla vista videocamera. Allora, dovete sapere che se decidete di realizzare le inquadrature con le videocamere, dobbiamo attivare la creazione automatica dei fotogrammi vista. Cos'è questa parolaccia? O perlomeno dov'è che si attiva? Ebbene, dobbiamo portarci qui, in viste con orientamento e videocamere, clic destro, e vedete, dobbiamo disattivare questa voce, perché noi dobbiamo creare i fotogrammi chiave nella vista, attraverso la videocamera. Quindi questa, eccola, appena disattivata, ci torno sopra, clic destro. Vedete, ora che l'ho disattivata, qui in basso mi compare anche vista con videocamera. Sì? Ho due videocamere in questo momento. Videocamera 1 è quella che ho impostato adesso. Occhio però, ho la barra temporale a 5 secondi, annulla, porto la barra temporale a 0, non aggiungi videocamera, ma vista con videocamera, ed eccola, vedete? Ora, guardando un po', si è esposto la barra temporale, resta sempre questa inquadratura, quindi l'inquadratura della videocamera. Benissimo, allora, iniziamo. Sposto la barra temporale a 3 secondi, perché adesso, vi ricordate, vi devo allontanare pian piano dal drone, così da mostrarlo poi nella sua interezza, e vado con la barra temporale a 3 secondi a modificare le proprietà della videocamera. dove le vado a recuperare, espando questa cartella, e vedete? Eccola, videocamera 1. Quindi, con la barra temporale a 3 secondi, clic destro su videocamera, proprietà, e qui vado ad impostare l'inquadratura. Quindi, vediamo un po', mi metto in vista dall'alto, guardate, mi sposto con questo vettore, anzi, mi metto prima in vista laterale, mi sposto con questo vettore qui, vado a zoomare un po' di più, così riesco ad afferrarlo, eccolo, mi sposto con questo, poi, elevazione, benissimo, poi vista dall'alto, e mi sposto anche leggermente di lato. Eccola qui. Quindi è questo, vediamo, è questo quello che io voglio ottenere, mi sposto un po' con il mirino, così da centrare meglio, vedete, riesco a centrare meglio, eccola, il drone rispetto alla vista 16 inoni della videocamera, confermo. Guardate un po', ecco che il motion, il motion manager, automaticamente, vedete, ha aggiunto una nuova chiave videocamera e ha gestito una transizione, vediamo un po'. Mi riporto a zero, guardate. Niente male.